E. Gay Sports. It's in the gay. Sono a Sergei. Palo. Palo di Zanina Lazio. Quando cazzo c'è soldi rottito per comprare Zanina. Ramos. Questo è il gol. Jacobs. Bravissimo. Felipe Anderson. Felipe Anderson. Felipe Anderson. Il sergente che non c'è più. Vesino. Milinkovic. Savic. Sì, però. Ha un tempo di reazione il nostro portiere. Che assurdo. È buona. Solo anche il destro. La parata di Maximiano. E beh, il coraggio ci avete. Fa giocare lui. Beh, il coraggio. Felipe Anderson. Felipe Anderson. La palla dentro. C'è il gol. De la Lazio. Milinkovic. Savic. Ragazzi, in Europa ha tolto l'Helsinki. Non riusciamo a fare praticamente nulla. È regolare. Probey. La parata di Maximiano. Assurda sta parata, ragazzi. Assurda. Ragazzi, a Lazio è sempre stata quella squadra che a ogni FIFA come l'Inter rompe i coglioni. Probey. 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 Il pareggio. Direi anche alleluia. Del Vanide. Il meraviglioso. Potentissimo Brobey. La pareggia lui. Con la Milinkovic e Savic. Proevavano a fare il kick-off glitch. Sti stronzi. Brobey. Peters a giro. Peters. La ribalta nei minuti di recupero del primo tempo. Brobey. La sgancia dietro e Peters molla. Un destro a giro. Che non lascia scampo a Maximiano. Guardate là. La perfezione. Appena fuori dall'area. Destro a giro. Peters. Stasola anche. Andriasevic. Il 3 a 1. Colsium del capitano Andriasevic. Il capitano dei capitani. Roberto Firmino. C'hanno anche lui. A parte non capisco perché non l'abbia fatto in tale pica. Ma a parte quello. Cosa cazzo ci fa Lazio Firmino? Consaloramos. 3 a 2 Lazio. Prende il pallone in mano. Non ci voleva. Stavo per quittare. Pensate un po'. No. 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 No Jacobs. Raga. Non la vinciamo più. Non la vinciamo più. Perché Milinkovic Savic sa saltare. Ma come fa? Ma la palla non era... No raga. Ma che ladrata è questa? Raga ma... Allora. Quando ha rinviato il portiere? L'ha passata all'uomo più avanti che era marcato. C'era un uomo appena fuori dal limite dell'area. Da solo. E il portiere è andato a quella più avanti che ovviamente si è fatto saltare in testa. E poi si è preso gol. Ragazzi però le ladrate così io non le accetto. C'è tu devi passare la palla a chi dico io. C'è ma non è normale che c'è un giocatore davanti e tu lo salti apposta. Brobey. Vaffanculo ovviamente adesso c'è la parata no? Guardate lì la palla ma che cazzo di contrasto è quello? Ultima opportunità. Ha 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 c'è un difensore e riprende lui. Ragazzi cioè ma capite che non esiste così? Cioè ma lo capite che non esiste? A me me ne frega un cazzo se hanno fatto più tiri questi. Me ne frega un cazzo. C'è la dignità. La dignità delle meccaniche di questo gioco. Se tu sei il portiere c'è un gru di giocatore davanti. E io premo x in direzione di quel giocatore. Tu la passi a quel giocatore. Non esiste che tu la fai scavalcare e poi la prende l'attaccante che non la gestisce allora è rimballo. Viene anticipato. Cioè ma non esiste. C'è l'uomo libero tu la passi a lui. Punto non c'è cazzi che tengano. Adesso andate a giocare contro l'uomo e che fate il cazzo che vi pare. Manco vincete. Cioè raga ma vi ripeto che non esiste. Pensa partita facciamo contento Farmo Sandrino che sta piangendo un panchina. Contro il tuente. Raga un cazzo. Se si perde anche. Adesso voi contro Lazio mi dovete, me li dovete disintegrare adesso. Cioè non so se voi capite il termine disintegrare. Tutti i titolari mi importa un bel cazzo. Bello. Si torna in Italia. Anzi si va in Italia per la prima volta. Invece mi fate girare il cazzo. Ste meccaniche di merda che so. C'è solo sto gioco. Tu prendi qualsiasi gioco anche non di calcio. Ste meccaniche di merda non ce le ha. C'è solo la Electronic Arts del cazzo fa ste cose. Solo Electronic Arts del cazzo. Brobei, brobei. Andiamo qua. Eh, è fuori di quattro chilometri. Hanno trovato la palla al grosseto. Eccola, madonna Jacobs, che culo. Oh ma è possibile perdiate palla? Ma è possibile perdiate palla ogni tre per due? Ma non è possibile che ogni passaggio vada dove cazzo gli pare? E' fuori. Secondo tiro così. Seconda volta che neanche va in porta il tiro, ragazzi. E per la seconda volta di fila ci troviamo sotto una zero in inspiegabilmente. Zaffa il cazzo che gli pare. Perché Zaffa il cazzo che gli pare. Cioè non lo so, ma importa con la palla dato che ci sei. Solan che è regolare. Cioè non vi basta farmi smadonnare nell'online. No, non vi basta. Ma non vi basta mai. Tre. Tre. Ah, tre. Tre palle davanti al portiere e sbaglia tutte. No, non ho spazio. Loro passano come cazzo gli pare a loro. Ma dai! Dai, ma dai! Ma cos'è? Cioè ma no, ma no. Ma me la devi far vincere 8 a 1 sta partita adesso. Ma 8 a 1 la devi far vincere. Vabbè, Felipe Anderson crazy. Arbitro fuori! Quattro gol sbagliati davanti al portiere. Quattro gol. Quattro gol sbagliati davanti al portiere. Qua fischi fallo e lo ammonisci. Se c'è un minimo di dignità. Non c'hai neanche quella. Non c'hai neanche quella. Non hai neanche quella dignità per farmi fare un 2 a 1 che mi sto meritando. Cioè, ok le sconfitte, ma le prese per il culo da parte del gioco, ragazzi, no. Tiro. 2 a 1. Wow. Dai. 50 minuti per fare gol alla Lazio. Vi rammento che il totale è 5 a 3 in due partite. C'è 5 gol presi da questi. Ma dai, ma dai, ma dai! Ma non ho premuto nulla! Niente. Non ho premuto niente. La palla gli ha ribalzata addosso in fallo laterale. Hyper motion. Lo dico sempre. Sti nomi da bimbi minchia. Hyper motion. Frozbite. Poi giochi. E' sta merda. Perché è questa la merda che ti trovi davanti, no? Ti sti nomi del cazzo. Poi il gioco è sempre lo stesso. Anzi, è peggio. Vai, vai a cagare. Vai, 2 a 2. Meritato. Vai, vai a cagare. Cioè, muori, cazzo. Ma tanto io scommetto che al primo tiro faranno gol. Ma io me lo sento. Ma quanto me lo sento che al primo tiro faranno gol. A primo tiro faranno gol. Eccolo qui. Ma quanto lo conosco sto gioco. Ma quanto lo conosco. Ci ho messo 50 minuti per realizzare una partita che doveva essere sopra di 3 gol. Primo tiro. Prima occasione. Dove sono trovati davanti il portiere. hanno fatto gol. Totale 6 a 5. La difesa! La difesa! La difesa! Cazzo! Due gol in un minuto. Ma cos'è? Peters. Ecco qua che sbaglia. Ah, meno male. La partita scorsa era in vantaggio di due. E gli hai fatti recuperare negli ultimi minuti. Adesso, se sei onesto, mi fai recuperare anche a me. Parcondicio si chiama, vero? Ma guarda dove passa! Ma guarda, lì hanno sempre palla loro! Ma chi ti ha detto di mettere da fuori, cazzo? No, vabbè, ma non è possibile! Ma chi cazzo l'ha fatto sto gioco? Broby! Gol! 4 a 4. Mi viene anche da esultare perché c'è, è una cosa immonda. È una cosa immonda. Immonda. Cioè, è uno schifo assurdo. È uno schifo che più schifo non si può vedere. E c'è gente che ancora continua a pagare per questo gioco. Cioè, non solo paga comprandolo, ma paga anche l'emico transazioni che campano di quelli sti bastardi! Lento! qua c'è... No. 5 punti in 4 partite d'Europa League. Il Monken Club che sarà in fuga assoluta adesso. Ospiti del Fortuna Sittard che ha 26 punti, cioè, assurdo. 5 a 0. Brobei, Andrzejewicz, Andrzejewicz, Brobei, Brobei, tripleta di Brobei. Non ha fatto il turno a questi gran cazzi perché vi dovete impegnare di più. Giochiamo contro l'Hersing Siamo secondi. 6 punti. Monken Club è più uno. Mi fido di voi. Ma andate affanculo. Andate affanculo, andate. Mi fido di voi. Doviamo a sperare che Monken Club abbia pareggiato, ma non ha pareggiato Monken Club che non ha pareggiato. Si ha pareggiato. Dobbiamo batterli. Dobbiamo a sperare che Helsinki e Lazio pareggino. Neck, Breda, Formosandrinho e Colwell. E anche Jacobs Peters va in panchina. Si perde. Vabbè dai ragazzi è una parzelletta. Ospiti del Feyenoord. Uno a uno pareggia almeno alla fine. Facciamo cagare il cazzo. Andiamo di Europa League. È la sesta. Birighitti. Se Errol Saunders ci sbloccherebbe i portieri. 1.850.000 Accetto. Ragazzi questa è come una finale. Si va giù in Conference League. Volete questo? No, ditemi voi. All'andata mi avete rotto Brobei maledetti voi. almeno adesso si capisce qualcosa con le maglie. No, come si è fatto bucà. Ma da ma cosa? Uno come l'ha bucato. Due da dove ha tirato. se ci tiro io di lì la palla finisce affanculo. Un'altra partita la quarta di fila che siamo sotto. Cioè raga ma che cos'è diventato? ma che cos'è diventato? E' un'altra partita. E' un'altra partita. E' un'altra partita. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Cosa? Raga momentaneamente siamo fuori dall'Europa League vuole farvi rendere conto. Non sono mai uscite gironi in una carriera. Mai 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 uscite gironi ragazzi. E' regolare. La passa ciao mi chiamo Peter se la passo quando cazzo pare a me vero? Ma io c'è io non ho più parole con sto gioco del cazzo. La para. La para? Meno male. Non esulto nemmeno. Guarda quale palla in profondità come fanno. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Cioè sono 85 gradi in casa mia. 85 gradi. Sto sudando sto gocciolando per sta merda. Cioè il mio difensore aveva preso palla ma adesso giustamente non avere una serie di calci d'angolo finché non fanno gol. No no non è ma che cazzo di passato altro angolo altro angolo ma proprio l'ho lasciata lì ma che cosa mi rappresenta? Cosa mi rappresenta che proprio lasci la palla lì quando premo X e ovviamente palla loro di nuovo hanno da quando pareggiato hanno camperato nella nostra area c'è ma io non posso giocare tutte le partite con lo stampino raga non posso devo passare il turno ecco il go del 3 a 1 blocca e spingi al tuo compagno no 7 calci d'angolo a 0 ma si può vederlo proprio così ragazzi siamo fuori dall'Europa League volete rendere conto che siamo fuori dall'Europa League per una partita simulata che dovevamo vincere ci ha fatto perdere per una partita con la Lazio che stavo vincendo 3 a 1 le l'ha voluta far pareggiare apposta apposta 8 calci d'angolo 8 robbie ha 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 gioco di merda gioco di merda a un metro dalla porta raga a un metro dalla porta un pareggio che era d'oro a un metro dalla porta e non c'ho parole raga io non ho parole e adesso la para ma vi rendete conto che gioco del cazzo è una parata un'altra è una parata un'altra raga gli ho dovuti massacrare per fare un gol e comunque nonostante il defotto non basta perché adesso fanno 3 a 2 primo tiro questi cioè vivono di contropiede questi basta non fanno altro vivono di contro ecco che gli fa fare gol l'ho visto l'ho visto da come l'ho visto da come ha recuperato la palla sono uscito col portiere per forza che dovevo fare ditemi cosa dovevo fare in alternativa se non uscire col portiere fuori gioco sempre palla loro la bella stessa partita contro la lazio uguale uguale primo tiro primo gol e così è stato ragazzi si allunga la palla al cognone capito e col pareggio probabilmente siamo anche fuori da tutto ma dai ma no ma no ma è una condanna pazzesca è una condanna pazzesca ragazzi di terzo grazie fifa grazie sei il miglior gioco del mondo sei la peggior merda mai creata fuori dall'Europa League una vittoria tre quattro pareggio era sconfitta cioè ma cosa mi rappresenta ma cosa mi rappresenta tutto ciò cosa mi rappresenta se non è merito schifo schifo dello schifo andate a giocare fate il cazzo che volete adesso cioè ci tocca giocare i preliminari di conference birighitti ciao che cazzo ti vuole camburi in coppa andate fuori anche contro di loro mi raccomando peccato peccato avete vinto peccato ceduto anche simon sta a posto wall week si vince adesso no siccome sei un pezzo di merda adesso mi fai vincere tutto quanto in campionato ma pezzo di merda rimani perché questo sei pittes aveva la palla del 4 a 3 quei tiri lì me li fai sbagliare tutti sei incredibile me la granada ne hanno rifiutato il trasferimento di prima tanto ormai sfiga per sfiga adesso la conference league quella coppa di merda me la dovete vincere non avete nessuna cazzo di scusa me dovete vincere la conference league contro ogni cosa c'è anche se fosse andato il real madrid per caso dovete vincermi la conference league adesso comunque si sono arrollati nuovi giocatori candelà farà il terzino sinistro timber farà il terzino destro e barbu la riserva siamo contro una squadra turca in conference league a a a a a a